Dragon Ball Sparking Zero ci andrà giù pesante con la censura in alcune scene? Sembra di sì, e una fetta di pubblico ha storto un po' il naso. Ma è davvero il caso di lamentarsi o sorprendersi? Parliamone insieme, ma prima iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun contenuto sull'eredi di Budoka e Tenkaichi. Il character trailer dedicato alle saghe dei Saiyan e di Freezer ci ha mostrato alcuni dei momenti più tristi di queste sezioni di Dragon Bolzeta. Spazio è stato dato al sacrificio di Chao Tzu, Mediaset ce l'ha fatto conoscere come Riff, o alla morte di Yamcha per mano dei Cybermen. Per quanto concerne la leggendaria scena in cui Piccolo lancia il suo makanko sappo contro Radish tenuto fermo da Goku, un repentino cambio non ci permette di vedere la sua conclusione. Non sappiamo insomma come e se sono stati riprodotti i danni inflitti dalla mossa ai due Saiyan. Una cosa però è certa, nell'eseguire la tecnica Piccolo ha entrambe le braccia al loro posto, anziché una sola. Era così anche nella versione della scena in Dragon Ball Z Kakarot, che però mostrava chiaramente le grosse ferite arrecate ai guerrieri dal makanko sappo. Il character trailer di Sparking Zero contiene anche il momento in cui Freezer in seconda forma incorna il povero Krilin. Quel frangente in Dragon Ball Z è sanguinoso e cruento, mentre in Sparking Zero un filtro in bianco e nero lascia a malapena intravedere ciò che sta accadendo. Come per la scena di Piccolo e l'assenza del braccio mozzato, si tratta chiaramente di una scelta legata a una produzione che, per ragioni di Peggy e altre classificazioni, vuole evitare di spingere l'acceleratore sulla rappresentazione di atti violenti. In Kakarot questo momento è stato proposto in una cinematica, con Freezer che pur trapassando il terrestre col suo corno non lo tortura a lungo. Per quanto concerne i Budokai Tenkaichi, la seconda forma di Freezer aveva una mossa dedicata a questa scena. Non era certo violenta come quella dell'anime, ma almeno non c'era il filtro in bianco e nero a coprirla. Insomma, capiamo, perché alcuni hanno espresso i propri dubbi in merito alla scelta cromatica in Sparking Zero. Al contempo, però, potrebbe trattarsi anche di un frangente modificato appositamente per il trailer e un po' più esplicito nel gioco completo. Non mancheremo di chiedere delucidazioni agli sviluppatori la prossima volta che avremo l'occasione di incontrarli. Passiamo alla morte di Zarbon per mano di Vegeta. In Sparking Zero, lo si nota facilmente, il fascio di energia non reca alcun danno visibile al mostruoso sfidante del Principe dei Saiyan, al contrario di quanto avveniva in Dragon Ball Z. La mancanza di ferite caratterizzava anche la versione di Budokai Tenkai C3 della mossa, mentre nel moderno Kakarot la scena della sconfitta di Zarbon per mano di Vegeta è assente, sostituita direttamente dal guerriero senza vita che finisce in acqua. Insomma, per questioni di Peggy, le trasposizioni videoludiche di Dragon Ball ricorrono alle censure o alle modifiche di alcuni frangenti. Sparking Zero non è certo una novità in tal senso, quindi c'è ben poco da sorprendersi. Capiamo che in un gioco in Unreal Engine 5, dove la qualità di scene e lottatori è piuttosto alta, sarebbe stato bello assistere a trasposizioni più fedeli all'anime di questi momenti, ma al contempo non ci stupiamo certo di determinate decisioni degli addetti ai lavori. E voi cosa ne pensate di queste scelte? Ditecelo nei commenti!